Pronto, scusatemi, io volevo un'informazione. Sì? Sì, sentite, io abito solo con mia sorella a casa. Un attimo che candeline, un attimo. Sì, sì, va bene. Sì, signora, mi diceva? Io dicevo, io abito solo con mia sorella a casa. Sì? Dato che le chiamo spesso, io non ho supporto più. Volevo sapere se voi potete venire tipo a casa mia e ve la traslocco, cioè, vedete tutte le cose che mi hanno portato. Sì, dove abitate? Io, a pianura. Sì, dobbiamo fare un sopralluogo? No, cioè, voi volete proprio portare, proprio. Vi portate giusto quei quattro mobili suoi. Si può fare. Io ora sto nascosta nel bagno a parlare, perché se mi serve quella... Ma che posso dire passare direttamente il tecnico? Grazie. Sì, sì. Pronto? Pronto? Sì, la signorina molto gentile mi ha detto che voi potete venire. Ho capito. Ma che è successo? Che quella non ce la fa più, quella si scorda le cose. Ho capito. E se si chiama Carabinieri? Se lo provate a questa sorella? Se sono i mobili, perché, diciamo... Se sono i mobili, perché, diciamo... Se sono i mobili, perché, diciamo... Vi posso aiutare? Eh, vabbè. Allora vi do qualche sedia. Che le possa adassettare pure, no? Ho capito. C'è un posto di capo telefonico, signor? Non ho capito. Pronto? Ditemi il posto di capo telefonico. 081 Sì 7 Sì 26 Sì Pronto? 726 2 4 2 Era numero 2 Era numero 2 Il ne parlo che di bon Dieu Il ne parlo che di bon Dieu